Cristina Marta e Ketur in Galleria Vittorio Emanuele! Minchia, se vanno! Fabrizio, ecco, vai così! Vai! Eeeh! Fantastica! La critica al massimo del pudismo milanese! Eccoli! Vai così! Fantastico, se non mi prendono dentro, ecco anche gli altri! Fantastico questo passaggio in Galleria Vittorio Emanuele! Vai così! Eeeh! E vai! Anche il lasso di cuore, meno male che non c'è due di picche! E adesso arrivano i camminatori! Camino De Milati in prima fila e vai! Ecco!